Tu quanti anni c'hai? 35? Lui quanti c'hanno? 25, 28? 28? Io? 35, 27. No, io sono più grande di quella che... Quanti anni hai? Io 35. Non è vero. Ma io... te lo giuro. Infatti lei fa... 15 in me. Io avevo capito 35. Poi a me dell'età sinceramente non me ne frega assolutamente nulla. Bravo! Quindi, cioè, nel senso, questa è la mia risposta. Poi, non lo so, sto leggendo qui la carta identità. Sì, ma poi voglio dire, anche se avesse 50 anni e non li ha... Ma che mi frega, ma no, ma poi voglio dire, se un uomo più grande sta pure una donna più giovane, va bene, invece se il contrario non va bene, basta, insomma, ragazzi, non me ne frega niente. Oh, e vai, vai Paolino! Oh! 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 Grazie a tutti